Bene carissimi amici, ben ritrovati sul mio canale YouTube, una buona giornata a tutti voi. Vi presento quest'oggi una novità bomba assoluta che è il mio top 90. Veramente una previsione che mi sta dando grande soddisfazione e che ho deciso di presentarla per la prima volta in assoluta a tutti voi. Abbiamo pensate con questa previsione una sola ruota di gioco. Quindi giocheremo il 90 su unica ruota di gioco. Quindi quando chiaramente si presenterà la condizione su quale strazionale, ci permetterà di giocare il 90 su quella specifica ruota. E avremo due soli ambi. Pensate a quanti ambi si formano con i 90 numeri. Giocare due soli ambi su una sola ruota è veramente una previsione ristretta, efficace, sulla quale possiamo investire molto bene. Qui abbiamo la nuova modalità vincita venuta, quando abbiamo previsioni così ristrette, dove si punta un euro per me sull'ambo secco. Quindi a vincita venuta mi andrete a corrispondere l'importo della vincita. Siamo pronti a sbancare sulla ruota di Bari, quindi una previsione che vi do gratuitamente, con impegno da parte vostra, di giocata. Dietro a queste previsioni c'è un grande lavoro, c'è il mio tempo investito, le mie energie, c'è tanto lavoro dietro un metodo del genere, una giocata del genere, per andare tra l'altro a centrare degli esiti su unica ruota di gioco e avere una previsione così ristretta, con un unico capogioco tra l'altro che il 90. Quindi siamo pronti a sbancare sulla ruota di Bari. Sulla ruota di Bari ho una convergenza con il 90 incredibile, ho una convergenza su questi due ambi, quindi massima attenzione perché ho una previsione micidiale potentissima da grande sbanco, tutto su unica ruota di gioco. Abbiamo ottenuto l'ultima vincita sulla ruota di Palermo da questo metodo, proprio l'estrazione scorsa, con il 97. Quando ho visto questa vincita su Palermo mi sono deciso a presentare questo lavoro, perché volevo ancora testare gli esiti, ma sono arrivati i tre ambi di fila e ve li faccio vedere, sono arrivati i tre ambi di fila e sono appunto il 97 a Palermo, 11 luglio, poi da questo metodo è stato vinto il 7 di luglio il 90 e 10 su Roma e poi è stato vinto il 4 luglio il 90, 75 sulla nazionale. Quindi c'erano tre condizioni che mi dava questo metodo, con tre ruote forti per il 90, Roma, Nazionale e Palermo, è uscito su tutte e tre. Adesso attenzione perché Bari potrebbe portare un altro grande botto. Quindi attenzione cari amici a non perdere questa previsione, contattatevi a Whatsapp per avere la previsione in modalità vincita e venuta 348 75 47 715. È una novità assoluta, è un 90 bellissimo, è un 90 su unica ruota, sono solo due ambi, sono giocabilissimi, quindi attenzione alla previsione top 90 perché è una previsione che potrebbe farci sbancare spesso e volentieri. Mi raccomando vi attendo numerosi. Per adesso saluto a tutti, Mr. Sbancolop.